La pallavolo sembrava voler prendere una strada alternativa, ma chiaramente non poteva durare. La federazione, valutata la situazione dell'attività sportiva in considerazione delle difficoltà causate dal perdurare dell'attuale contesto pandemico, ha stabilito il rinvio delle prossime due giornate, la dodicesima e la tredicesima, nei campionati nazionali di Serie B, originariamente programmate per il 16 e il 23 di gennaio. Quindi anche la Virtus.bl dovrà rivedere il proprio calendario, già condizionato da rinvii, cancellature e punti di domanda. Coach Colombo potrà tuttavia continuare a lavorare al Palace Arselli, poiché in questo arco di tempo saranno sospese solamente le amichevoli e le attività dei tornei, mentre le società potranno continuare ad allenarsi regolarmente, sempre nel rispetto dei protocolli federali vigenti. A far specie sono tuttavia le precedenti giornate a Spezzatino, in cui qualche partita si è giocata e qualcuna no, a seconda della disponibilità di atleti. Una irregolarità piuttosto anomala che ha fatto inispettire molti addetti ai lavori. La classifica vede infatti ora squadre con una o più partite da recuperare e squadre che invece sono scese in campo per giocare gare con roster decimati, un'ingiustizia. Ad oggi sono addirittura 161, di cui 149 nella sola ultima giornata, i match da recuperare nei campionati di B maschile, B1 e B2 femminile, un problema logistico notevole. La FIPAV ci tiene però a salvaguardare la validità del campionato, soprattutto dopo le ultime due edizioni monche e ridotte. Nonostante le decisioni assunte, arriva la conferma fin da ora che al termine della stagione saranno comunque previste promozioni e retrocessioni. Mercoledì 19 è stata poi fissata un'ulteriore riunione degli organi decisionali, a tutti i livelli, per valutare la situazione e stabilire la nuova programmazione dell'attività. Lo sport continua a slittare, la sensazione è che si possa arrivare anche a febbraio.